Il mondo della lirica è una delle eccellenze della nostra nazione per la quale noi siamo riconoscibili e Caruso è stato uno dei migliori prodotti italiani nel mondo. Un museo che parla, parla a tutti, parla ai melomani ma parla anche alla gente comune che vuole sapere qualcosa di più di questo personaggio straordinario. A 150 anni dalla nascita di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, Napoli rende omaggio a Enrico Caruso con un museo allestito qui a Palazzo Reale nella Sala Dorica. A Napoli Caruso era nato nel 1873, a Napoli è morto nel 1921. Nel museo cimeli dalla sua vita e straordinaria carriera, spartiti autografati, costumi di scena, grammofoni, dischi. Essendo una gloria napoletana così celebre nel mondo è sembrato giusto ospitarlo qui a Palazzo Reale che è un simbolo di Napoli, della città e anche una porta verso il mare, quel mare che consentì a Caruso di portare il proprio successo oltreoceano. Noi abbiamo reso omaggio alla storia di questo grande italiano, di questo italiano illustre utilizzando tutte le tecnologie che questo tempo ci mette a disposizione, i grandi dischi digitali come elementi di narrazione, una mappa performativa al posto della cronologia classica scritta, dei tavoli tau ce ne sono 14 per oltre 4.000 documenti. Un'ulteriore attrazione internazionale perché lui era una grande personalità internazionale conosciuta in tutto il mondo, soprattutto in America.